Palù, da quando sono tornata, continuo a pensare alla mia vacanza in montagna. Quanto è stato divertente l'hotel Val di Sole. È un posto davvero magico. Sembra quasi di essere a casa. La nostra camera è la più bella del mondo, con un letto nella montagna e tanti giochi divertentissimi. Con il mio fratellino ci siamo divertiti un sacco nel parco di Palù e sulle scivoli del parco acquatico. La mamma dice che qui in hotel non si sente più stressata e che finalmente si è riposata. È stato un vero spasso. Ci siamo sentiti proprio come a casa. Grazie. Grazie.